questa iniziativa di oggi con la presenza di luca a bete sia rientri tra quelle iniziative cosiddette delle good vibes è un'iniziativa un'esperienza straordinaria per i ragazzi perché ascoltare le esperienze di vita di qualcun altro è sempre qualcosa di molto arricchente l'incontro da tanta carica positiva e non ci ferma nessuno